Sto campionato e sto girone non ci dà un attimo di sosta perché già domenica c'è una partita importantissima perché la classifica è cortissima, se vinciamo possiamo andare a play-off, se perdiamo è play-out, è sempre quello il discorso. Il nostro obiettivo è quello di mettere in campo la mentalità, la nostra mentalità che ci contraddistingue, che ci deve contraddistinguere da tutti, quello che ci chiede il mister e il risultato sarà solo una conseguenza della nostra prestazione. Non serve continuità perché è un attimo, un attimo che fai una vittoria ti ritrovi là, fai una sconfitta ti ritrovi giù e serve sicuramente continuità, domenica giochiamo anche in casa, quindi ci sarà la spinta del pubblico che è fondamentale per noi e il nostro obiettivo è dare continuità e scenderemo in campo assolutamente per prendere i tre punti contro l'Ancona. In casa siamo stati anche sfortunati perché ci sono state partite che meritavamo di vincere, come contro per esempio la Vispesero nel primo tempo è stato a senso unico ed eravamo in vantaggio di solo un gol, oppure anche contro il Siena che abbiamo pareggiato ma se si andava a vedere le occasioni meritavamo qualcosina in più noi. Secondo me è solo un caso e alla lunga verremo fuori anche in casa davanti ai nostri tifogli. Grazie. Grazie.